Perché non mi hai parlato di tua sorella? Perché anni fa mi ha abbandonato. Lei ti vuole bene. Vorrebbe avere una famiglia. Quella famiglia non esiste più. Tu e io siamo una famiglia. Sì. E funghi. Sì. Asparagi, basilico, maratoliva, caffè, peperoncino, salata. Ho dimenticato il parmigiano. No, l'ho preso io. Vabbè. Torno subito, è meglio il reggiano. L'ispettore Brown si recchi con urgenza la cassa 2, grazie. L'ispettore Brown si recchi con urgenza la cassa 2. Un etto di parmigiano reggiano, per favore. Max Barone, in ginocchio e vergognati. Ciao, Rachel. Lazzarone, che fine hai fatto? È un'utopia riuscire a trovarti. Ti avrò lasciato almeno un milione di inviti per il ringraziamento sulla segreteria. Sei gentile, Rachel. Come stai? Strafelice. Max, patti chiari, alla testa verrai con la tua misteriosa compagna. Ha preso tutto, faccio il conto? Grazie. Torno fra l'alumento. Va bene, arrivo. Un listino prezzi alla cassa 2, per favore. Un listino prezzi alla cassa 2, per favore. Capisco, è una sorpresa, non so come spiegare. Non spiegare niente, sono tutti contenti che tu abbia ritrovato la voglia di vivere, Max. Ti risulta che volessi suicidarti? No, però non puoi negare che sei un po' musone. Dai, ti prometto che dopo ti lasceremo stare, potrai sparire ancora, d'accordo?